8 partite separano il Tor Vajanica dal proprio destino. La squadra di Mister Salotti, nella prima, di fronte ai propri sostenitori, affronta la Res Blue 92. Alle 11 spaccate, il signor Manzella dà il via alla prima frazione di gioco. Tredicesimo minuto, calcio di punizione per gli ospiti battuto dagli annarilli. Pellone lascia rimbalzare il pallone e para con facilità. Alla mezz'ora è il Tor Vajanica all'attacco. Servito in profondità, Russo, in posizione regolare, tenta la conclusione. Sanguinario respinge col sinistro. Occasioni contate fino allo scadere, fin quando da centrocampo De Cristofaro serve un assist perfetto per Russo. Ma l'attaccante, seppur in ottima posizione, non ci arriva, sciupando così un'occasione ghiotta. Tre minuti più tardi, calcio di punizione per gli ospiti. Batte gli annarilli. Pellone anticipa 13, salvando così la propria porta. Con il risultato ancora in bilico, la seconda frazione vede le due compagini agguerritissime. Al 52esimo, passaggio di Persica per Zulli, che vede Di Carlo in ottima posizione e lo serve. L'attaccante controlla la sfera e tenta con una rovesciata, che finisce fuori. 8 minuti più tardi, Tor Vajanica vicinissimo al gol col Russo, che superato il fortiere, prova a servire De Giusti. Sembrava fatta, ma Soria lo anticipa e con un destro salva la propria porta. Al 71esimo, il risultato si sblocca. Calcio di punizione per la squadra ospite battuto da Iannarilli. Pellone sbaglia nella parata e l'attaccante della Res Blue 92 sigla così la rete del vantaggio. In pieno recupero, lancia un profondità per Di Carlo, che superando in velocità Calasso, recupera la sfera servendo Cappezuoli. L'attaccante, dopo aver superato in furbizia Ussia, con un destro, Tim nel cartellino. Ed è 2-0 per la Res Blue 92. Negli ultimi secondi di gara, De Cristofaro sulla fascia Salve Borrelli, che con un destro sigla la rete della bandiera. Il tipice fisco di Mansella condanna il Tor Vajanica alla seconda sconfitta consecutiva. Per la Res Blue 92, invece, il terzo risultato utile consecutivo. Allora, è stata una partita molto maschia, diciamo, e alla fine abbiamo meritato. Però comunque loro sono una buona squadra. Il problema che ci abbiamo avuto, penso che è stato subito che si è fatto male di Giulio. A inizio secondo tempo l'abbiamo dovuto sostituire. Purtroppo in panchina tutti quelli che c'erano erano solo per far numero. E non c'eravamo altri cambi. Abbiamo provato. La squadra penso che non ha giocato come solito gioca in casa.